buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 14 dicembre 2021 il sole sorge tra poco alle 7.33 tramonterà alle 16 e 32 giornate sempre sempre più strette e in prossimità del solstizio d'inverno il 21 dicembre prossimo vediamo subito qual è il santo del giorno oggi si festeggia uno dei santi più venerati della spagna san giovanni della croce san giovanni della croce è stato un grande collaboratore di santa teresa d'avila fu un collaboratore soprattutto nella fondazione dei carmelitani scalzi fu una scelta fu molto innamorato della parola di cristo e dedito ad aiutare i poveri lui era nato da una famiglia poverissima e quindi il suo esempio il suo amore verso chi non aveva sostanze lo ha portato ad aiutare tante persone era dotato di profonda interiorità di una grande fiamma d'amore che lo fece uno dei più grandi mistici della sua epoca è stato anche un grande poeta i suoi scritti ebbero una ascendenza una sugge esercitarono una suggestione che fecero convertire tante tante persone diamo ora un'occhiata alle previsioni del tempo il tempo è migliorato di molto rispetto ai giorni passati e vediamo la cartina delle marche vediamo che appare molto il sole il tempo è stabile con cielo sereno poco nuvoloso per tutta la giornata le temperature minime sono in aumento le massime fino ai valori di 12 gradi comunque insomma fa sempre freddo specialmente quando il cielo è sereno apriamo i giornali questa mattina a partire dal corriere adriatico e vediamo che il titolo di apertura è dedicato alla sanità più letti covid parte il piano la regione ordina riconversioni graduali a partire da medicina d'urgenza e dai reparti meno affollati per il pronto soccorso di marche nord il settore più critico sono stati annunciati 13 nuovi dottori 8 da bando e 5 provenienti dall'area chirurgica la fotonotizia è dedicata invece ad una ad un restauro importante perché questo palazzo era il simbolo del degrado a pesaro si tratta di palazzo aimonino ultimo miglio ovvero ultima ultima fase di lavori il recupero appunto del simbolo del degrado vediamo un attimo poi all'interno le tre notizie centrali si ligate il tarboccia l'anas sulle barriere vincono i residenti un ubriaco terrorizza la moglie e i figlioletti poi devasta la casa e una l'esame della patente vanno con gli auricolari ma vengono scoperti e patteggiano sei mesi poi c'è la proposta di aguzzi di trasportare i rifiuti del titano nella discarica di cada sprete che passa con 10 voti contrari apriamo subito il giornale sul pagina della sanità abbiamo una doppia pagina sulla sanità da pneumologia fino ad oculistica ciao reparti tornano i letti covid è stato avviato il piano di riconversione per aumentare gli spazi destinati ai degenti in area medica all'ospedale di jesi c'è un ampliamento per otto pazienti a torrette e a marche nord il tutto è ancora in fase di studio e vediamo com'è il confronto con il giorno prima i casi positivi sono aumentati in tutta la regione di 227 unità i decessi sono aumentati di due casi mentre il totale dei tamponi è aumentato a 2664 tessera sanitaria e codice fiscale da domani al via le prenotazioni per vaccinare la fascia dei più piccoli quella che va da 5 a 11 anni le somministrazioni venerdì negli hub saranno coinvolti anche i pediatri dunque vaccinazioni pediatriche si coinvolge anche la fascia dei più piccoli si parte le somministrazioni della profilassia anti covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni partiranno dal 16 dicembre e da domani si apriranno però le prenotazioni che riguardano una platea che comprende a livello regionale 92.645 soggetti dunque sono molti che si apprestano da prendere il vaccino e vediamo invece la notizia che viene riportata in sintesi in prima pagina quella che riguarda palazzo aimonino palazzo aimonino vede l'ultimo miglio dopo quattro anni di lavori la conclusione dell'intervento finanziato dall'ERAP è prevista entro la fine di questo inverno verranno realizzati 34 alloggi di housing sociali dal recupero del complesso appunto simbolo del degrado vediamo come le sono e le varie fasi della riqualificazione a gennaio del 2018 sono iniziati i lavori per questo stabile in via mazza a pesaro in pieno centro storico in base al primo cronoprogramma avrebbero dovuto terminare entro la seconda metà del 2020 ma hanno debordato l'operazione costa due milioni e mezzo di investimento porterà alla sistemazione di 34 alloggi 24 di proprietà dell'ERAP regionale 10 rimarranno invece nella disponibilità del comune in un'ottica di edilizia sovvenzionata invece per quanto riguarda il palace dove dovrebbero poi tenersi tanti spettacoli il vecchio palace di pesaro riprendono i lavori e in merito alla sospensione dovuta a problemi di carattere normativo ci sono stati controlli delle forze dell'ordine l'assessore belloni dichiara che non verranno presi provvedimenti nei confronti della azienda così replica ad all'asta della lega dunque la sospensione durata due settimane non produrrà strascichi sono stati contestati in quel caso alla ditta che esegue i lavori ponteggi enorme covid non in regola sono già intervenuti i carabinieri l'ispettorato del lavoro comunque al comune non è stato notificato nulla quindi non verranno presi ulteriori provvedimenti daremo 13 medici per marche nord e pronto soccorso e la dichiarazione dell'assessore alla sanità della regione marche filippo saltamartini che il consiglio comunale ha replicato a baiocchi di fratelli d'italia un segno concreto a ruggeri movimento 5 stelle ma carichi più sostenibili ha dichiarato la capogruppo e biancani del partito democratico aumentiamo i compensi per incentivare la partecipazione ai concorsi 8 specifici per il pronto soccorso altri 5 saranno assunti per l'area chirurgica e potranno essere impiegati all'occorrenza anche per l'emergenza urgenza il problema del pronto soccorso di pesaro è un problema rilevante lo abbiamo già visto nei giorni scorsi perché a fronte di 38 medici in servizio più il dirigente al primo gennaio 2020 ne sono rimasti pensate soltanto 27 e sono veramente pochi rispetto alle esigenze di tutto il territorio l'articolo che riguarda i rifiuti speciali provenienti dal titano a guzzi passa passa il suo provvedimento con 10 no 10 voti contrari è stato bocciato in commissione questo provvedimento ma è stato promosso in aula ha stenuto rossi e che è un po l'esponente del territorio provinciale dell'entroterra e se lucas e filippi non ha votato e la vitri ha detto questa giunta dice una cosa poi ne fa altre e queste dichiarazioni sono riportate nel sommario dunque 2400 tonnellate provenienti dalla cartiera ciacci saranno diretti nella discarica di casprete a tavuglia tutti concentrati in questi 15 giorni dell'anno la linea guzzi passa con 18 voti a favore e con il previsto aumento una tantum del quantitativo una tantum quindi solo per il per quest'anno e veniamo alle notizie di cronaca un ubriaco devasta la sua casa e terrorizza la famiglia la moglie dice è un marito esemplare quando non beve ma quando beve purtroppo fa da matti l'uomo è stato arrestato dai carabinieri colpisce la figlia alcolista madre denunciata dalla polizia ci sono due casi in questo articolo quello della madre che malmena la figlia alcolista e quindi viene denunciata dalla polizia la madre la figlia voleva uscire la madre vista le condizioni della ragazza della ragazza insomma della donna perché è una signora che si aggira sui 50 anni aveva detto di no e ne è uscita una lite e la donna per frenarla ha veramente malmenato la figlia quell'altro caso invece si parla di un uomo che terrorizza la sua famiglia quando beve e quindi è stato accusato di maltrattamenti in famiglia entrambi sia la madre che ha malmenato la figlia sia l'uomo che ha terrorizzato la famiglia barriere sulle siligate l'anas è rimasta bocciata per il tar hanno ragione gli abitanti il comitato grida soddisfatto grande vittoria i nodi legati a san bartolo e al passaggio degli animali e queste barriere che sarebbero state poste questi new jersey che sarebbero stati posti sulla careggiata avrebbero poi impedito il passaggio degli animali da una parte all'altra insomma una grande vittoria da parte dei residenti e l'anas deve recedere dalla sua decisione definitivamente comunque i new jersey erano già stati eliminati a valle foglia micro spie auricolari per la patente due suggeritori patteggiano sei mesi erano in collegamento dal bar con uno smart watch già condannato il marocchino scoperto all'esame e poi è bene è un caso particolare questo marocchino non riusciva a superare gli esami della patente ci aveva provato tre volte alla fine per tagliare la testa al toro aveva deciso di presentarsi con gli auricolari i suoi complici al bar lì vicino gli suggerivano le risposte ma è stato scoperto il marocchino già condannato ed ora vengono condannati condannati anche i due suggeritori i quali patteggiano sei mesi a urbino il anche a urbino si svolge il congresso del partito democratico e ne esce giorgio ubaldi nuovo segretario del pd locale il rinnovo con l'usato sicuro e il titolo che appare sul corriere adriatico per la nuova delicata fase dem è stato eletto appunto giorgio ubaldi già presidente di urbino servizi serve un partito organizzato ha dichiarato solo 200 gli iscritti dobbiamo coinvolgere di più e la città non è più invitante insomma c'è ancora da lavorare per la sinistra a urbino nessun aumento di tasse affano per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022 2024 e saranno assunti 30 nuovi dipendenti veramente un provvedimento che non ha uguali negli ultimi anni nella storia dell'amministrazione comunale ai servizi sociali destinati la somma più rilevanti 11,7 milioni non verranno aumentate le tasse né le tariffe addirittura nemmeno per quanto riguarda gli aumenti in stato ovvero quelli della inflazione il bilancio è stato approvato dalla giunta e il prossimo 23 dicembre sarà apportato all'esame anche del consiglio comunale c'è anche una serie corposa di provvedimenti di finanziamenti per quanto riguarda le opere pubbliche sono elencate nei giornali questa mattina qui li vediamo sul Corriere Adriatico poi ci saranno anche sul resto del Carlino compreso il waterfront e l'intervento che dovrà riqualificare il lungomare della Sassonia ma anche poi della zona sud del fiume Metauro nuovo lungomare è il tempo di vedere gli elaborati e bere la presentazione di questi progetti sarà effettuata giovedì prossimo alla sala verdi alle ore 16 appunto ci sarà la presentazione degli elaborati che si sono imposti nel concorso di idee bandito dall'amministrazione comunale elaborati che in parte sono già stati presentati nella sala verdi altri titoli che riguardano la pagina di Fano Rosciano problemi e opportunità Flaminia ancora troppi incidenti l'assessore lucarelli nei giorni scorsi ha partecipato all'assemblea di fine anno dell'associazione Rosciano insieme si replicherà con la presenza di seri e della giunta il 17 dicembre Rosciano dunque ha i suoi problemi ma anche le sue opportunità una di queste date dal volontariato molto presente in zona con tutte le sue associazioni che si dedicano a risolvere le difficoltà delle famiglie più precarie insomma che vivono in maniera più precaria e poi ancora Viale Alighieri caos parcheggi ecco cosa non funziona un articolo a fondopagina perché i parcheggi di Viale Dante Alighieri a Fano saranno trasformati da spina di pesce in maniera parallela alla viabilità sono stati impegnati 600 mila euro per posteggi al foro Boario Sport Park e pronto soccorso quindi un provvedimento che riguarda una sostanziale misura per quanto riguarda i parcheggi a Fano ancora autorizzato un cavo interrato da Terna che è la ditta che si occupa appunto dei grandi elettrodotti l'intervento aumenterà l'efficienza della cabina primaria Mondolfo potenziata anche l'area industriale a servizio appunto delle aziende e poi vediamo a Senigallia Arceviese e Corinaldese da incubo servono al più presto le rotatorie il Comune sollecita Anas e provincia dopo l'ultimo incidente che ha purtroppo provocato una nuova vittima si tratta di Massimo Panni che è perito nel corso di uno schianto dopo la giornata al circolo Acli di Cannella il Comune chiede alla provincia di realizzare due rotatorie sulla Corinaldese e Adanas altrettante sulla Arceviese questo di fronte all'ennesima tragedia che si è consumata domenica pomeriggio i cittadini dunque tornano a sollecitare interventi per queste due strade molto pericolose l'ultima vita spezzata sull'asfalto della Corinaldese è stata quella di un uomo di 63 anni Massimo Panni lo vedete qui nella fotografia stava tornando a casa dopo aver dato mano al circolo Acli di Cannella insomma dopo un momento spensierato è arrivata la tragedia questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la cronaca però voglio dirvi anche due cose per quanto riguarda lo sport vediamo che il resto del Carlino parla della Vist e la dichiara Vist specialista nei pareggi ormai sono molti i punti da pareggio che porta a casa ad Ancona si presenterà senza Gavazzi il derby con l'Ancona è la prossima partita la squadra ha osato e confermato la capacità di restare sempre in partita ma la munizione con Limonese costerà al capitano l'assenza nel derby per quanto riguarda invece il fano calcio vediamo che la vittoria con il Nereto ha portato un po' di serenità nell'ambito della squadra che insomma era in particolari crisi dopo i risultati deludenti delle partite precedenti la vittoria con il Nereto e l'estinzione del mutuo di oltre mezzo milione rasserena un po' il clima della società il presidente russo mantiene la promessa di sistemare i conti appunto dei Granata e per quanto riguarda la VL vediamo che per Baioni che è il vice di Sassari ed ex assistente di banchi per la VL tutto è ancora possibile insomma Baioni fa il punto della situazione societaria e dice ho visto Pesaro trasformata merito del coach che colpo prenderlo insomma i risultati altelenanti del basket pesarese lasciano però un po' ben sperare per il futuro della squadra e qui noi terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per appunto leggere insieme i giornali e per le notizie del giorno vi rimando al TG di Fano TV questa sera alle ore 23 condotto da Simona Zonghetti buona giornata Grazie a tutti